Sì, quella è stata una vicenda tristissima, un disastro. A dire il vero, quando mi è stato comunicato che l'argine dei crati in parte era crollato e che c'erano problemi al parco archeologico, per un po' avevo sottovalutato. Poi mi sono recato sul posto e ho trovato un vero e proprio disastro, perché il parco archeologico non c'era più, c'era un lago di acqua e fango, si vedeva nitidamente quest'acqua gialla che conteneva fango e lì io mi sono chiesto se fossi stato in grado, se eri in grado a risolvere il problema, che era un problema grossissimo. Io con la mia squadra, con i miei assessori, dipendenti comunali, abbiamo fatto quello che potevamo. Abbiamo chiesto aiuto al Consorzio di Bonifio che immediatamente è arrivato sul posto, con le sue drovere, abbiamo incominciato a pompare acqua. Ovviamente ci siamo preoccupati di liberare il canale dello stompe e devo dare atto ancora una volta al Consorzio di Bonifio di allora che lo stompe era pulito, quindi le acque defluivano, perché altrimenti sarebbe stato ancora più drammatico, perché oltre al parco avrebbe potuto subire danni anche il Museo Nazionale della Sibaritide, perché in precedenza si era allagato proprio perché il canale dello stompe non era pulito. E abbiamo chiesto aiuto al Paese, a Montendero. Devo dire che ci fu una risposta positiva. Mentre scendevo da Cassano, mi recavo al parco dopo qualche giorno, ricevo una telefonata dal loro ministro Fabrizio Barca, ministro per l'acquisizione territoriale e sociale, il quale mi dice che abbiamo ricevuto il suo allarme, lei deve sapere che da questo momento non è più solo, con lei c'è il governo del Paese. Ci siamo dati appuntamenti qualche giorno dopo proprio a Sibari, il ministro Barca è venuto, abbiamo attivato tutti i meccanismi che c'erano da attivare per svuotare, diciamo, quel lago. Però svuotato l'acqua rimaneva il fango. Devo dire che, e di questo sono fiero, e forse io ho capito ancora di più, è stato importante per me, che gli attestati di solidarietà, le disponibilità che sono arrivate a me, verso l'email del sindaco, da parte dei scienziati di tutto il mondo. Mi scrivevano in inglese, davano la loro disponibilità perché Sibari andava salvata. È stato un messaggio di solidarietà bellissimo e credo che in quel momento il Paese, l'Italia, anche e soprattutto per questo impegno forte del ministro Barca, Fabrizio Barca, ha conosciuto Sibari, ha conosciuto il parco archeologico. E quindi subito una disponibilità economica per incominciare a ripulire il fango. Poi c'erano delle somme, 18 milioni di euro del PON che il ministro Barca ha recuperato e furono eseguite, preparate una serie di progetti per ripulire, per intervenire, per creare anche delle situazioni, diciamo, di protezione proprio del parco archeologico, un nuovo centro di accoglienza, eccetera. Tutti interventi che sono stati realizzati direttamente dalla sovrintendenza, il comune non ha gestito niente, il comune ha soltanto sollecitato. Poi la Calabria era commissariata per il rischio idrogeologico, c'era un commissario che non faceva niente, ha messo su un ufficio, un progetto dietro progetti, ingarichi dietro ingarichi e però nessun intervento concreto fu realizzato a punto tale che proprio nel Museo nazionale della separatrice una notte ci fu uno scontro terribile. Il ministro Barca, il sindaco da un lato, il commissario per il rischio idrogeologico dall'altro lato, il ministro contestava, diciamo, il perché, l'ha mancata operatività, operosità da parte del commissario, le risposte erano molto vaghe, eccetera. Facciamo squadra?